Un'audizione significativa, quella tenuta da Vito Tisci presso la sede della regione. Il numero uno del CR pugliese ha affermato di aver interpretato il pensiero delle società dilettantistiche giovanili affiliate al comitato che al momento sono, espressione emblematica, alla canna del gas, a causa di mancanza di introiti, sponsorizzazioni e altri innesti economici. Tisci ha sottolineato la necessità di provare quantomeno a tornare alla normalità, ma per farlo sarà necessario il risponso della LND che si esprimerà in merito il prossimo 5 febbraio. L'obiettivo è di introdurre un protocollo sanitario paragonabile a quello di D, almeno per quel che concerne il torneo di eccellenza, anticamera dell'Interregionale e massima espressione a livello regionale. Se il risponso dovesse essere positivo, si potrebbe procedere alla modifica dell'articolo 51 delle NOIF che disciplina i format dei campionati, possibile a tal proposito che si decida di giocare soltanto il girone d'andata.